Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati al nostro appuntamento, quest'oggi duplice, come vi avevo preannunciato nel video di Borderlands Per Sequel, quella a cui stiamo giocando in questo momento è Middle-Earth Shadow of Mordor. Il gioco è molto... un gioco stealth action in cui la trama si completa abbastanza velocemente, abbiamo un personaggio che è Talion che per un motivo o per un altro ha acquisito in parte i poteri di uno spettro, tra questi per esempio la possibilità di vedere attraverso i suoi occhi e individuare subito bersagli particolarmente pericolosi o il controllare effettivamente elementi del nemico. Insomma, un personaggio che ha qualche abilità in più, l'obiettivo del gioco è una trama abbastanza semplice in cui bisogna combinare queste abilità dello spettro insieme all'abilità dei ranger di Gondor di Talion. Un'abilità tra l'altro, niente male, tra combattimento e movimento è una cosa che si fa abbastanza velocemente. Questa che stiamo posando ora è la vista dello spettro in cui possiamo vedere illuminati i vari nemici e avevo visto prima un capo. In pratica, ricordiamoci anche del famoso sistema Nemethys presentato in questo gioco. In pratica, ogni avversario che sconfiggiamo si ricorderà di noi, ogni avversario che incontriamo si ricorderà di noi e questo potrà causargli anche degli effetti come paure o cose che lo faranno arrabbiare e diventare quindi più forte. Ah, eccolo lì. Per esempio, lui non penso che l'abbiamo già incontrato. Non abbiamo alcune informazioni su quali sono le sue paure e le sue, invece, qualità. Ricordiamoci che lo spettro ci può dare veramente molti poteri, tra cui quello che avete appena visto, che ci ha fatto piccola cavolata. Quello che volevo fare era questo qui, prendere il controllo dei nemici. Ovvero loro agiranno normalmente come se nulla fosse successo, come se io non esistessi per loro, fino a quando io non gli dico incacchiavi. Dove è finito il boss? Eccolo lì. Ah, si sono proprio accorti già di me. Non ho da dire come si sono accorti di me, però si sono accorti di me. Lui è quello che è il mio obiettivo in questo momento. Voglio farvi vedere, praticamente, la battaglia contro di loro con uno dei Capitani. I Capitani e i War Chief sono molto più grossi e importanti. E quello che possiamo fare è prendendone il controllo mentale. Allora, per prima cosa, per aiutarci, io voglio prendere il controllo mentale di qualche orfo in modo che possano, appunto, aiutarmi in battaglia. Tra cui, per esempio, questi parecchi vicini. Questo qui non so se lo posso eliminare in un solo colpo. Vediamo se lo posso. Ah, no, questo l'ho già incontrato, invece. A quanto pare sono fuggito dalle luce. Come vedete, i soldati miei non stanno ancora combattendo. Ora si sono iniziati a combattere. Questo qui lo dovrei fermare, perché se no chiama l'allarme che è parecchio una rottura delle balle, perché vuol dire che si chiama tutti i rinforzi possibili. Il combattimento è molto simile ad Assassin's Creed, ovvero diversi amici che si attaccano, ma l'attacco in realtà lo fanno principalmente uno alla volta. Un sistema di contrattacco, come vedete. E le esecuzioni, che non so se ci sono Assassin's Creed, non me le ricordo. I boss qui si ricordano sempre chi li ha affrontati. Si ricordano se, per esempio, li buttiamo nel fuoco e riescono in qualche modo a sopravvivere. Cosa comunque che succede di rato. E dei nemici ce ne sono di due o tre tipi. Per esempio, questi con due asce sono i Berserker, che non li posso attaccare direttamente. E Talion ha anche diversi poteri dotati proprio dall'avere lo spirito con sé. Uno di questi è, per esempio, l'esecuzione che ho finito eseguito. O il colpo a terra che ha fatto un leggero danno a tutti quanti nell'area. Questo qui. Oppure questo qui che lo stunno i nemici. Con l'AE. E alcuni poteri altrettanto utili sono, per esempio, queste frecce con cui posso anche decidere di bloccare gli nemici. E, appunto, controllare anche... Aia. Dove te ne stai scappando tu? Tornatene qui. Non mi sono dato il permesso di scappartene. Intanto ci lanciano ascia addosso. Vieni qui. Vediamo, a te ti buttiamo ora in mezzo al fuoco. Vediamo se te ne ricorderai per sempre di questo. Ok, quando ammazziamo uno di loro, in pratica cosa otteniamo? Teniamo la possibilità che se li ammazziamo con un'esecuzione, siamo sicuri di averli ammazzati. Altrimenti potremmo anche rischiare che siano ancora vivi. E che quindi, effettivamente, tornino a combatterci magari incavolati neri, per esempio, per il fatto che lo abbiamo bruciacchiato. Oppure possiamo fare anche un'altra cosa. Prenderne il controllo e lasciarli andare. In questo modo noi possiamo ottenere informazioni su quelli che sono altri ufficiali, oppure comandargli di andare, per esempio, a attaccarne un altro. Per esempio, ora noi andiamo a dire, per esempio, vai a attaccare a questo. Lui ora sparirà dalla mappa e dovrebbe aver creato... Perfetto! Non ha creato nessun trigo di potere, nessun... Niente di quello che gli avevo chiesto. Sono purtroppo alcune cose che non capisco perché ogni tanto capitano. E sicuramente farebbe comodo sapere perché non succede, o perché succede qualcosa, ma... Non c'è da da saperlo. Allora, io direi, a questo punto, facciamo una cosa più interessante. Da qui intanto fuggiamo, in modo da poter muoverci in un'altra mappa, oppure facciamo questo piccolo evento qui, dai. Piercing Light Ah, questo qui è un attacco a un warship. Attacchi ai warship, cosa fanno? In pratica richiedono, ottimemente, ad alcuni obiettivi prima di poter affrontare effettivamente il warship in sé. Spesso, se non si ci libera prima della guardia del corpo, dobbiamo affrontare pure Elsie. Pure le loro guardie. Io lì ne ho un altro, però se vado su quello mi beccano. E non è affatto quello che vorremmo che ci beccino. In questo caso ci possiamo... Possiamo fare... Qualcosina, tipo eliminare i tipi che ci hanno visto, oppure... Darci all'affrontamento. In questo caso abbiamo eliminato tutti quelli che ci hanno visto. Non è un po' inutile il fatto che avevamo... Acquisito... E assimilato alla nostra armata... Qualcuno di questi uomini. Vediamo un pochino. Io non ho nemmeno informazioni probabilmente su questo warship. Perché sono cambiati dall'ultima volta che... Li ho combattuti. Però vedete che abbiamo un obiettivo che può variare da diverse cose. Per esempio in questo caso uccidi 5 dei suoi supporter con attacchi con le frecce. E a quel punto lui arriva. Come vedete di là. Con la sua guardia del corpo. Con questa tantilena che canta il suo nome. Il nome del warship. Ush Barkha. Prima che ne andiamo a cercare... Io vorrei acquisire qualche altro uomo. Perché i miei uomini qui non ce ne sono. Allora, di questo qui che sappiamo? Immunerabile auto stealth è torange. Dovvero non lo posso shottare con un colpo immediato di stealth dall'alto. E ne posso eliminarlo subito con delle frecce. Mentre per il war chief sappiamo che... E' colpibile tranquillamente dalle frecce. Però non lo posso shottare. Perché è un'abilità ben diversa. Una debolezza ben diversa. Con la vista dello spettro possiamo individuare bersagli interessanti. Per esempio da acquisire. E far nostri. Per esempio molto utili sono spesso volentieri gli arcieri. E in modo da preparare un pochino il terreno per quello che sarà poi... L'attacco, vero e proprio... Al... War Chief e ai suoi servitori. In questo caso sto salendo in modo da potermi ci buttare poi in testa ma... Per cui deve essere salito troppo. E in modo da poter salire sai. E questo qui stavamo a muoverci malissimo ma l'abbiamo preso. Quello lì è già nostro. Quello lì è solo soletto potrebbe essere interessante da recuperare. Tra l'altro in genere si hanno più uomini in giro. Io è da un pezzo che non vengo in testa aria perché in realtà ci sono due aree. E quindi non ho molti uomini miei appresso per poter attaccare quello che è il nemico. Spesso e volentieri comunque avremmo dovuto agire diversamente. Avremmo prima dovuto eliminare la guardia del War Chief separatamente in modo da non doverla affrontare nel medesimo momento. Però vediamo una cosa. Questo qui si incacchia se vede i gradus. Ok. Quindi per esempio quello lì non lo posso curare per fare casino. Poi in Brace Darkness si incacchiano. Così noi punti siamo il cagnolino. E lui ci vede. Ci vede e si incavola. Non dice niente. È uno di quelli che non parla. Che non ce l'hanno un po' della parola. Intanto eliminiamo la guardia. Questo dice che io potrò solo morire. Uno di loro aveva paura di calcolo. Ah, ah, ah. Questo non ce l'ho fatto caso. Si è incavolato. Come vedete il mio schermo è diventato verde per un attimo. Vuol dire che praticamente sono stato avvelenato. Questo vuol dire che la mia vita scende piano piano. La guardia è stata eliminata da uno dei uomini che avevamo conquistato. E no, dobbiamo eliminare anche il capoccia per così dire. Ovviamente avendo l'armatura di metallo e lo spudo non possiamo eliminare normalmente. E levo le dalle balle. Ecco, qua il nostro anima letto che ci allontana i nostri bersagli e ci ha disposto. Come avrete visto ogni tanto la squadra si illumina di blu. In pratica ogni tot attacchi a catena io ho la possibilità di effettuare una mossa speciale. In questo caso mi hanno praticamente buttato a terra perché avevo perso la vita e ho la possibilità di rialzarmi. Questa è una possibilità che si attiene una o due volte al massimo per scontro e quindi non bisognerebbe sprecarla. Conquistiamo qualcuno di questi uomini per avere un po' più di libertà perché qui sono messi abbastanza male. Questo non so perché ha recuperato tutta la vita ma come avete visto quando ho provato a conquistarlo non ho sugo farlo perché bisogna indebolirli un po' i war chief e i soldati un attimo superiori al soldato semplice e quindi non si possono conquistare troppo facilmente. Ho fatto anche un livello questa è la scena in cui possiamo decidere del suo fato lui se la ride possiamo dominarlo oppure ucciderlo se lo dominiamo abbiamo un war chief al nostro comando che può fare esattamente quello che vogliamo e possiamo veramente distruggere di tutto e di più noi lo uccidiamo oh oh mi sto dimenticando della sequenza animata ecco qui via la testa via il dolore tanto questo qui non parlava a questo punto vedete che scappano i suoi membri qui abbiamo la scenetta del fatto che è morto un war chief se ne fa un altro proprio subito e neanche il tempo e poi ci liberiamo degli ultimi ostacoli qui dentro come vedete ha lasciato ogni nemico grosso che viene ucciso ha lasciato delle rune che ci permettono di potenziare i nostri attacchi o con appunto un attacco potente oppure con delle abilità particolari e che dire meno male questo qui è quello che è il gioco Shadow of Mordor questo qui è quello che bisogna fare è praticamente un continuo andare alla ricerca di prede conquistarne la mente distruggerne l'ordine degli orchi fino a quando poi praticamente non è tutto tutto il tuo completo controllo e a quel punto non rimane per molto da fare in realtà perché comunque le cose non sono tantissime ci sono missioni secondarie cose simili ma non sono cose che prendono veramente tanto quindi questo qui è Middle Heart Shadow of Mordor presentato qui da Kister appositamente per voi e spero che questa bella rimatriata di sangue vi sia interessata in caso mi raccomando iscrivetevi al canale qui da Kister è tutto ciao ciao ragazzi e alla prossima puntata di domani ciao